ciao ciao a tutti e benvenuti su archidee questo video è in collaborazione con bibi craft infatti qualche tempo fa ho pubblicato l'unboxing di tutto l'ultimo materiale che mi è arrivato dal loro sito tra i vari articoli c'era questo stampo molto particolare si tratta di uno stampo per realizzare una scacchiera in resina per creare questa scacchiera ho deciso di utilizzare due tipi di resina differenti il primo tipo che è quello con cui andrò a fare tutti i quadratini è l'art pro di racing pro che ho già utilizzato in molti video dovreste conoscerla bene se mi seguite è una resina un po più densa della classica resina ipossidica e ho scelto di utilizzare questa resina per i quadratini perché non volevo assolutamente che la resina sbordasse da un quadratino all'altro infatti le linee di divisione tra i diversi quadratini sono davvero sottilissime avranno uno spessore di circa un millimetro e mezzo per questo è importante che la resina hanno sbordi quindi bisogna posizionarla con particolare attenzione e se devo dare un titolo a questo lavoro lo intitolerei la santa pazienza perché anche se qui lo vedete molto velocizzato ci è voluto davvero moltissimo tempo per posizionare perfettamente la resina all'interno dei quadratini e anche per fare gli altri passaggi che vedrete successivamente per posizionare la resina ho utilizzato sia una pipetta che un bastoncino in silicone che era lo stesso con cui l'avevo mescolata ho messo qualche goccia dentro ogni quadratino e poi con un pennello in silicone appuntito sono andata a distribuirla bene in modo che arrivasse su tutto il bordo in tutti gli angoli dei quadratini perché in forme come questa è facilissimo che si creino delle bollicine proprio negli spigoli e sul bordino per questo è importante andarci proprio con un pennellino in silicone appuntito oppure se non lo avete potete farlo anche con uno stuzzicadenti per quanto riguarda la colorazione come potete vedere non ho optato per il classico bianco e nero ma ho voluto farla bianca e turchese perché vorrei metterla nel mio soggiorno e il turchese ha più o meno il colore delle mie pareti quindi ho pensato che si sarebbe intonata meglio la colorazione l'ho fatta con colore per vetro sia il colore per vetro turchese che il colore per vetro bianco nel caso delle dei quadratini bianchi e polveri di mica i pigmenti sarà in polvere di resin pro che sono appunto a base di mica e danno un effetto perlato ho realizzato prima i quadratini di colore turchese poi ho aspettato che si solidificassero non la catalizzazione completa ma diciamo una meta catalizzazione quindi ho fatto i quadratini bianchi e così quando qualche goccia di bianco è andata a finire sul turchese non si è mescolata e l'ho potuta rimuovere poi ho aspettato la catalizzazione completa quindi le 24 ore per tutti quanti i quadratini e sono andata a realizzare il fondo con naturesin la resina acrilica sempre di resin pro aggiungendo un po di color fan bianco per avere una miscela ancora più bianca anche se già versata al naturale è abbastanza bianca ma aggiungendo del colorante bianco appunto diventa ancora più bianca in questo caso non seguite alla lettera il mio esempio perché poi vedrete nella molding che ho avuto dei problemi in quanto i quadratini non si sono attaccati alla resina acrilica sul retro e quindi ho dovuto studiare un sistema per poi tenerli ben saldati a tutto il resto io vi consiglio di completare la scacchiera con un altro strato di resina epossidica o nel caso in cui vogliate mettere la nature sin anche per un motivo di risparmio perché ce ne vuole veramente molta per riempire tutto lo stampo e la nature sin costa meno fate però prima uno strato di resina epossidica trasparente che viva da saldare insieme tutti i quadratini del primo strato vi assicuro che ne varrà la pena ho dovuto preparare diverse dosi di nature sin per riempire tutto quanto lo stampo e già che ci sono video dei consigli in più rispetto ai video precedenti che ho condiviso su questo tipo di resina infatti ho notato che è più comodo mescolarla all'interno di un contenitore più largo questo è un contenitore in gomma che utilizzavo quando lavoravo con il gesso il gesso alabastrino anni fa e è molto largo e quindi ci consente di miscelare meglio questo tipo di resina l'altro consiglio è quello di mettere prima l'acqua e poi la polvere in questo modo non dovrete alterare le proporzioni che sono scritte sulla confezione ma i 27 30 grammi di acqua saranno assolutamente sufficienti per sciogliere la polvere poi ho dovuto aspettare diverse ore prima di fare la molding per essere sicura che la resina fosse ben asciutta ma come vi dicevo qui è nato il problema perché le tesserine si sono staccate dalla resina acrilica avevo già fatto altri progetti combinati con resine possidiche resina acrilica e mi sembrava che i due componenti rimanessero attaccati non è successo in questo caso non so se sia di peso dalla particolarità dello stampo dal fatto che i quadratini erano piuttosto sottili o dai tempi di asciugatura ma comunque imparate dal mio errore e non rifate esattamente lo stesso procedimento che ho fatto io ho fatto io ma appunto cambiate resina utilizzate o tutta epossidica o almeno uno strato di epossidica prima di mettere l'ecoresina perché poi andare a incollare ogni singolo quadratino è stato un po un supplizio ho anche scoperto che la colla partiglio fa incurvare gli spessori così piccoli di resina avevo sempre utilizzato questa colla conica bossoni in resina e non si erano mai deformati perché gli spessori appunto erano diversi e invece stavolta si erano incurvate tutte le tesserine quindi poi ho dovuto mettere delle maioliche sopra per riportarle tutte quante in piano e comunque malgrado tutti quanti gli accorgimenti sono rimaste le impronte della colla visibili soprattutto sotto le tesserine turchesi non volevo comunque perdere tutto quanto il lavoro fatto finora quindi non mi sono persa d'animo avevo già deciso che probabilmente avrei coperto la scacchiera con un altro strato di resina lucida in questo caso è stato assolutamente indispensabile per far legare bene i due materiali e per rifinire tutto quanto il lavoro quindi ho preparato dell'altra resina trasparente e postidica e stavolta ho utilizzato la art pro deluxe che è ancora più densa della classica art pro ho messo all'interno anche dei piccolissimi brillantini iridescenti e l'ho distribuita su tutto quanto il piano della scacchiera quello che state vedendo è il risultato dopo le 24 ore si è creato un piano perfettamente autolivellato liscio omogeneo con delle incisioni lievissime lì dove c'è la separazione tra i diversi riquadri della scacchiera mi sembra un risultato ottimale soprattutto dopo quello che ho passato per realizzare questa scacchiera quindi tutto sommato alla fine sono soddisfatta del lavoro fatto certo dovendola rifare prenderei delle precauzioni differenti per ora è tutto spero nel prossimo video di riuscire a farvi vedere come ho realizzato gli scacchi mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like su questo video se vi è piaciuto se volete farmi delle domande scrivetemi nei commenti o vi risponderò appena possibile e trovate tutti quanti i link di riferimento in infobox compresi quelli dei miei corsi online ciao ci vediamo al prossimo video